Elezioni politiche, domani si vota, oggi silenzio elettorale, seggi aperti dalle 7 alle 23, poi inizia lo spoglio per vedere chi andrà al Senato e alla Camera, ieri sera i comizi di chiusura dei candidati. Domani dalle 23 su Telemolise la diretta elettorale, al termine delle operazioni di voto al via la non stop, lo scrutinio in tempo reale, collegamenti dalle prefetture di Campobasso e Sernia, da seggi e sedi dei candidati fino a conoscere gli eletti. Stalking a Monteroduni, carabinieri arrestano 44enne, per mesi si era reso protagonista di minacce e aggressioni ai danni della moglie e della figlia. Cinque anni fa operazione antidroga in Basso Molise, tre assoluzioni, a Mafalda disavventura il fiume per quattro ragazzi. Sicurezza scuole, relazione su Materna via Crispi, sul tavolo del sindaco di Campobasso i dati dello studio Unimol sulle condizioni dell'istituto e le notizie non sembrano essere buone. L'Agnonese ospita la prima della classe, domani alla Civitelle arriva il Matelica, granata inseriti nei play-out, quattro le gare posticipate, tra cui Campobasso e Recanatese. Buongiorno dal telegiornale di Telemolise, dunque la scorsa mezzanotte si è chiusa la campagna elettorale, oggi pausa di riflessione e domani seggi aperti dalle 7 alle 23. Ci dice di più in questo servizio Giovanni Minicozzi. Si è chiusa alla mezzanotte del 2 marzo la campagna elettorale per le elezioni politiche di domenica prossima. Candidati, partiti e movimenti hanno ribadito le loro posizioni sul programma, alleanze e prospettiva di crescita per l'Italia e per il Molise. In ordine cronologico, la prima chiusura è stata della coalizione di centro-sinistra che ha convocato tutti i candidati al Parlamento nella storica piazzetta Palombo di Campobasso, appositamente attrezzata con una tensostruttura riscaldata. Presenti i candidati dell'Uni nominale al Senato e alla Camera, Enrico Colavita, Vittorino Facciolla e Maria Teresa d'Achille, nonché i candidati sulle liste proporzionali dei quattro partiti alleati nel centro-sinistra, ovvero PD, Insieme, Più Europa e Civica Popolare. Con loro anche i rappresentanti dei partiti e il Presidente della Regione, Paolo Di Laura Frattura. Tutti hanno ribadito la necessità di continuare le esperienze di governo del centro-sinistra per rilanciare la crescita, lo sviluppo e l'occupazione nell'Italia che sta uscendo dalla crisi grazie alle riforme approvate con i governi Renzi e Berlusconi. Mezz'ora più tardi la coalizione di centro-destra ha riunito candidati, partiti e simpatizzanti prima al Centrum Palace di Campobasso e poi all'Hotel Europa di Sernia. Sui collegi uninominali sono candidati Michele Iorio per il Senato, Mario Petracupa e Aida Romagnolo per la Camera dei Deputati. Anche per il centro-destra la coalizione è composta da quattro partiti, ovvero Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia, che hanno posizionato i loro rappresentanti sui collegi proporzionali di Camera e Senato. Siamo una squadra coesa e con il consenso dei molisani possiamo invertire la rotta prima in Italia e poi alle regionali nel Molise, hanno detto i rappresentanti del centro-destra, convinti di avere la vittoria in pugno. Riduzioni delle tasse, sostegno alle famiglie in difficoltà, opere pubbliche, eliminazione della legge Fornero sulle pensioni, innovazione e lavoro tra le priorità programmatiche del centro-destra, chiusura della campagna elettorale anche per il Movimento 5 Stelle che ha radunato candidati e simpatizzanti nella sede elettorale ubicata per il corso principale di Campobasso, Antonio Federico e Rosa Alba Testamento, candidati sui due collegi uninominali della Camera di Campobasso e Isernia e sul plurinominale. Al Senato invece sono in competizione Luigi Di Marzio sul plurinominale e Lorenzo Ortis sul plurinominale. Tutti hanno ribadito i 20 punti del programma e la convinzione che questa volta saranno loro a governare ma senza ingiusti con gli altri partiti. Reddito di cittadinanza, taglio alle indennità ed eliminazione dei vitalizi ai parlamentari, abrogazione degli enti inutili, riduzione delle società partecipate, tagli agli sprechi, innovazione, piccole imprese e lavoro tra i punti prioritari del programma dei pentastellati liberi e uguali ha chiuso il forcing elettorale all'hotel Rinascimento di Campobasso dove sono confluiti elettori e candidati assente da Niroleva impegnato in Abruzzo dove è candidato capolista alla Camera nel collegio proporzionale L'Aquila Teramo oltre che nell'uninominale di Isernia. Oreste Campopiano è candidato invece sul collegio Campobasso Termoli con Giuseppino Occhio Nero e Nicola Palombo sul plurinominale. Al Senato uninominale il Rettore Gianmaria Palmieri con Michele Durante sul proporzionale. Abolizione delle tasse universitarie, rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione, sostegno alle famiglie in difficoltà, abolizione del Job Act per eliminare la precarietà e rilanciare l'occupazione stabile sono i temi prioritari del programma di Libere e Uguali il cui leader è l'ex presidente del Senato Pietro Grasso. Il partito di Renzi ha calpestato i valori del centrosinistra, l'unica alternativa al PD siamo noi, hanno sottolineato i candidati al Parlamento. Infine la lista Potere al Popolo ha chiuso la campagna elettorale nel salone del dopolavoro ferroviario di Campobasso alla presenza di Sabina Guzzanti e dei candidati Paolo Marinucci e Cinzia Di Pentima, al Senato Luigi Vitulli, Rossella Griselli, Italo Di Sabato e Candida Stellato alla Camera. Iniziative sul territorio e ultimo appello al voto anche da parte degli altri partiti che partecipano alla competizione elettorale. Partito Comunista, Partito Repubblicano Ala, Casa Pound, Popolo della Famiglia, Blocco Nazionale, Italia agli italiani e Partito Valore Umano. Dunque è scattato il silenzio elettorale che durerà fino alla chiusura dei seggi. Si vota domenica 4 marzo dalle 7 alle 23. E domani su Telemolise a partire dalle 23 la lunga diretta elettorale. Lo scrutinio in tempo reale, collegamenti dalle prefetture di Campobasso e Isernia, dai seggi e dalle sedi dei partiti. Una lunga maratona che Telemolise seguirà per tutta la notte fino a quando non si conosceranno i nomi dei parlamentari molisani eletti. Ma sentiamo tutti i particolari nel servizio di Anna Maria Di Matteo. Il Molise va al voto e la nostra TV si prepara a seguirlo. Telemolise, come sempre, è impegnata con numerose postazioni in diretta su tutto il territorio. Anche quest'anno le consuete dirette con le prefetture di Campobasso e Isernia, con la sede di Termoli e le sedi dei partiti. La raccolta dei dati sarà veloce e completa grazie anche alle videate grafiche che riporteranno i risultati ufficiali. A disposizione la truppo mobile in diretta dai seggi dei partiti e dalle sedi dei candidati. Si annuncia dunque una lunga notte da trascorrere insieme e forse all'alba conosceremo i nomi dei due senatori e dei due deputati eletti nei collegi uninominali, mentre per il quinto parlamentare, deputato eletto con il sistema proporzionale, bisognerà attendere il calcolo dei resti. In studio, nella sede centrale di Campobasso, il direttore Emanuela Petescia ha condurre come di consueto quella che si presenta come una non-stop elettorale lunghissima, ma anche piena di novità. L'attenzione dei telespettatori è tutta concentrata sui risultati, ma le ore da trascorrere sono tante e Tele Molise colmerà l'attesa con moltissimi ospiti e con diverse iniziative. In studio, Simone Sala, al pianoforte, il tenore Paolo Bertolucci. La più interessante, forse anche la più ambiziosa delle iniziative, l'abbiamo chiamata Molise Antico e riguarda una scelta di immagini del Molise di una volta, prese da una raccolta privata, da fotografie che immortalano scene di vita molisana del secolo scorso, perfino a partire dagli anni 20 e 30. E chissà che qualcuno non si riconosca in quegli scatti. Il Molise, i suoi paesaggi, i suoi luoghi, le sue figure, poi una raccolta di tradizioni folcloristiche e suggestive dei paesi molisani, una raccolta divisa in piccoli squarci di meraviglie della nostra terra, presi in prestito da uno dei programmi più seguiti della nostra TV, Viaggio in Molise. Non mancheranno poi gli scherzi a danno dei candidati e di personaggi di spicco della politica locale. Appuntamento con Tele Molise dunque, domenica sera alle 23. E adesso qualche curiosità su queste elezioni. I giovani molisani che votano per la prima volta alla Camera dei Deputati sono complessivamente 3.447, compresi quelli iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero, ma che hanno optato per il voto in Italia. Dalla somma però emerge una discrepanza, seppur minima. Nel dossier pubblicato dal Ministero dell'Interno, la ripartizione tra uomini e donne è la seguente, 1.754 uomini e 1.692 donne. Il totale è dunque 3.446. In questo caso manca un elettore. Cambiamo argomento, la cronaca. Monteroduni, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni. È accusato di stalking. Per mesi si è reso protagonista di minacce e aggressioni ai danni della moglie e della figlia. Ce ne parla in questo servizio Sergio Di Vincenzo. Dopo la denuncia per maltrattamenti familiari presentata dalla moglie, l'uomo, un 44enne residente a Monteroduni, era stato allontanato da casa. Ma ciò non è bastato a farlo riflettere. All'idea che la moglie volesse separarsi non si era mai rassegnato. E nell'abitazione, che fino a qualche tempo prima aveva condiviso con la compagna e la figlia, c'è tornato lo stesso, stavolta per aggredire la moglie, ignorando così il provvedimento del giudice. È stato l'ultimo di una serie di episodi che negli ultimi mesi avevano stravolto la vita della donna. Dopo l'ennesima sfuriata, ha chiamato ancora i carabinieri. La sua richiesta di aiuto è stata accolta a tempo di record. Quando i militari dell'arma della stazione di Monteroduni sono arrivati, l'uomo era ancora in casa. Le indagini dei carabinieri sono state condotte rapidamente. In breve tempo hanno raccolto una serie di elementi utili, compreso un certificato medico che confermerebbe l'aggressione che hanno indotto la procura di Sernia altrettanto velocemente a emettere nei confronti dell'uomo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 44enne, accusato di stalking, è stato rinchiuso nell'istituto di pena di Ponte San Leonardo. Una misura preventiva che inevitabilmente fa venire in mente quanto accaduto a Cisterna di Latina, dove un carabiniere ha sparato alla moglie e ucciso le due figlie. I militari di Monteroduni prima e la magistratura esernina poi, a certi segnali, hanno invece dato un peso ben diverso. A loro era stato riferito di minacce anche nei confronti della figlia. In un'occasione l'uomo avrebbe anche seguito la moglie. Le indagini dei carabinieri hanno messo la parola fine a questa vicenda di soprusi e violenze in ambito familiare. Una vicenda di solitudine a Campobasso. Un uomo di 59 anni dializzato questa mattina si è barricato per alcune ore all'interno della propria abitazione in via Lazio. Si rifiutava di sottoporsi alla dialisi. Pare vivesse solo dopo la separazione dalla moglie. Uno stato di profonda prostrazione che lo aveva indotto a rifiutare le cure. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Campobasso e i vigili del fuoco che sono riusciti ad entrare nell'abitazione. L'uomo è stato poi portato in ospedale in ambulanza dove è stato affidato alle cure dei sanitari del Cardarelli. E di San Ventura a lieto fine per quattro ragazzi abruzzesi che ieri sera vicino a Mafalda hanno tentato di attraversare con un fuoristrada il fiume Trigno. Ma sono rimasti bloccati in balia della piena. Sono stati salvati dai vigili del fuoco. Il servizio è di Manuela Iorio. Tragedia scampata per quattro ragazzi abruzzesi di circa 30 anni di fresa grande in aria che ieri sera a bordo di un fuoristrada hanno tentato di attraversare il fiume Trigno in territorio di Mafalda. Una traversata che probabilmente avevano già fatto senza problemi ma questa volta è andata male. Quando si sono resi conto di non farcela hanno provato a tornare indietro ma ormai la jeep si era incastrata tra alcuni massi mentre l'acqua iniziava a entrare nell'abitacolo con il fiume in piena. Hanno subito chiamato aiuto con i cellulari in attesa dei soccorsi sono saliti sul tettuccio del fuoristrada. Una scena da film, quella che si sono trovati di fronte ai vigili del fuoco arrivati da Termoli e Campobasso con cinque mezzi e un salvataggio spettacolare quello effettuato e per cui è stato necessario l'utilizzo di un gommone in dotazione alla squadra dei vigili del fuoco specializzata in soccorso fluviale. In sicurezza e collegati a delle funi ancorate alla riva sono riusciti a raggiungere i quattro ragazzi spaventati e infreddoliti e a portarli in salvo. La jeep era quasi completamente sommersa dal fiume che in questi giorni è ingrossato dalle piogge e dalla neve che si sta sciogliendo. Ad attenderli il personale del 118 che si è accertato delle loro condizioni oltre ai carabinieri e a numerosi residenti che sono arrivati sul posto. Tra loro anche il sindaco Di Mafalda e Gidio Riccioni. Una disavventura che per fortuna i quattro amici possono raccontare e che poteva finire in tragedia. Un plauso ai vigili del fuoco per il salvataggio effettuato è arrivato dal comandante provinciale Cristina D'Angelo. Nuovo smottamento in via Riovivo a Termoli dal costone di Arenaria a causa del maltempo dell'ultima settimana si è staccato un pezzo franato davanti all'ingresso di una palazzina. Sul posto, allertati dai residenti, sono intervenuti i vigili del fuoco. La squadra di pompieri ha effettuato dei sopralluoghi e provveduto a mettere in sicurezza lo stabile. Nessun residente è stato evacuato. Lo smottamento si è verificato nella proprietà privata del complesso abitativo per cui, entro qualche giorno, l'area interessata dal fango ed arbusti dovrà essere ripulita. E si è sfiorata la tragedia questa mattina lungo la strada che conduce a pietra abbondante. Un autobus di linea a carico di passeggeri è sbandato, andando a sbattere contro il guardrail. Illesi i passeggeri e il conducente del mezzo. Sul posto lo vedete i vigili del fuoco del comando provinciale di Sernia, i carabinieri e la polizia stradale. L'asfalto ghiacciato, la probabile causa dell'incidente. E cambiamo argomento, continua la battaglia dei lavoratori della mobilità in deroga per vedere riconosciuti i loro diritti. Chiediamo chiarezza e risposte concrete, non solo promesse e parole. Al governatore e all'assessore regionale alle attività produttive. Hanno detto ancora una volta, esasperati e con una serie difficoltà ad arrivare a fine mese. Ce ne parla in questo servizio Tonino Danese. Non si ferma la lotta del comitato dei lavoratori della mobilità in deroga. Ci continuiamo a sentire abbandonati. Hanno denunciato per la giunta regionale, hanno spiegato. Nell'ennesima nota è stato facile cancellare con un tratto di penna sia il diritto ad accedere a misure di politiche attive del lavoro, sia il diritto a percepire le 13 mensilità per il 2015-2016. I presupposti politici, amministrativi, normativi ed economici per risolvere bene l'avvertenza hanno insistito. Ci sono, e per dare respiro concreto a quasi 2000 famiglie, alle prese con debiti, difficoltà, disagi e problemi di ogni tipo. I lavoratori della mobilità in deroga tornano a chiedere con forza e insistenza il rispetto della delibera del Consiglio regionale del 29 dicembre scorso, adottata all'unanimità delibera con cui la regione sollecita il ministro del lavoro a sbloccare l'avvertenza, intervenendo con l'Inps nazionale per far assegnare un codice meccanografico alle sedi dell'Istituto di Campobasso e Isernia. Siamo stanchi delle parole al vento del governatore e dell'assessore alle attività produttive e chiediamo soltanto la risoluzione della nostra avvertenza è il disperato grido dei lavoratori in questione, i quali vogliono chiarezza e risposte concrete e ne hanno anche diritto dopo aver protestato in tutte le sedi per mesi. Si tratta di padri e madri di famiglie, molti con serie difficoltà ad arrivare a fine mese. Cinque anni fa un'operazione antidroga della Guardia di Finanza Termoli che portò all'arresto di sette persone, alcune delle quali molto giovani. Ieri si è concluso il processo per tre di loro è arrivata l'assoluzione, il servizio di Emanuele Iorio. Era l'otto marzo di cinque anni fa Termoli nel Basso Molise la Guardia di Finanza su ordine del GIP di Larino eseguì sette ordinanze di custodia cautelare per traffico di droga, spaccio e tentata estorsione. In carcere finirono anche ragazzi giovanissimi e si ipotizzava un rifornimento di droga dalla Puglia che poi veniva piazzata a Termoli in Basso Molise. A cinque anni di distanza si chiude il processo per alcuni di loro. Ieri in tribunale a Larino l'udienza dibattimentale in cui il pubblico ministero ha chiesto una condanna a cinque anni di reclusione. Il giudice Tiziana Di Nino invece ha assolto tre imputati con la formula perché il fatto non sussiste. Si tratta dei termolesi Lorenzo Pistillo e Riccardo Lanzone e di Nicolino Rinaldi di Bonefro difesi rispettivamente da Gio Mileti, Nicolino Cristofaro e Michele Liguori. Un altro imputato è deceduto in questi anni mentre altri hanno seguito la strada del rito abbreviato come Alessandro Marchesani ritenuto all'epoca dagli inquirenti la mente e il braccio operativo del gruppo e su cui pesava anche l'accusa di tentata estorsione per i metodi con cui pretendeva il pagamento dei debiti dai tossicodipendenti e in particolare da una donna. Secondo le indagini della Guardia di Finanza di Termoli basate su intercettazioni e filmati si spacciava soprattutto in stazione in piazza Vega. Proprio quelle intercettazioni però durante il processo sono state smontate dagli avvocati. Le registrazioni telefoniche si fermavano a due anni prima degli arresti tempo durante il quale avevano fatto notare gli avvocati durante gli interrogatori alcuni indagati avevano iniziato un percorso di recupero e altri avevano trovato anche un lavoro. Alla luce del grave disservizio in cui versa il servizio dei trasporti sulla Trignina l'amministrazione comunale di Mafalda ha chiesto alla Regione l'autorizzazione per collocare una fermata attrezzata dei pullman nella zona industriale del Paese come unico punto di collegamento dei mezzi di trasporto regionali e interregionali. È stata infatti rilevata la pericolosità delle fermate in quanto prive di parcheggi. La stessa amministrazione ha annunciato di mettere a disposizione degli utenti non solo il piazzale davanti alla zona industriale ma anche un'area riservata ai parcheggi e una stazione di servizio. Torna di attualità il problema della sicurezza delle scuole a Campobasso. Sulla scrivania del sindaco Battista è arrivata la relazione dell'Unimol sulle condizioni della materna di Via Crispi. E le notizie non sono buone. Anna Maria Di Matteo. Resta sempre in primo piano il tema della sicurezza degli edifici scolastici a Campobasso. Alcune scuole sono state chiuse perché considerate a forte rischio. Su altre sono in corso gli studi sulla vulnerabilità sismica commissionati dal Comune. Tra queste c'è la materna di Via Crispi per la quale proprio nei giorni scorsi è stata consegnata al sindaco Battista la relazione dell'Unimol sulle condizioni dell'edificio che vale la pena ricordarlo. ospita anche gli alunni della scuola dell'infanzia di Via D'Amato chiusa insieme alla primaria. Al termine dello studio gli esperti dell'università hanno proposto in sostanza tre soluzioni quasi scontate l'adeguamento sismico il miglioramento o in alternativa l'abbattimento con la ricostruzione di un nuovo edificio. che la scuola materna avesse delle criticità lo si era capito resta da capire però come intenda ora muoversi l'amministrazione dove intenda collocare i piccoli alunni perché anche nel caso in cui il Comune decidesse di far eseguire gli interventi di adeguamento o di miglioramento sismico bisognerà trovare per loro un'altra sistemazione. Il sindaco Battista sarebbe orientato verso l'abbattimento della struttura per puntare in seguito alla costruzione di un nuovo edificio ma è chiaro che sarà necessario valutare la sostenibilità economica dell'intera operazione. Tuttavia il primo cittadino incalzato anche dai consiglieri del Movimento 5 Stelle che hanno chiesto chiarezza su come intenda muoversi ha cercato di minimizzare sottolineando come la situazione della materna di Via Crispi sia meno preoccupante rispetto a quella di altri edifici scolastici della città ma il problema comunque c'è e va affrontato. Dunque al momento non è stata assunta alcuna decisione l'amministrazione comunale valuterà se economicamente converrà a seguire interventi di adeguamento se invece abbattere e ricostruire. Durante una cerimonia nella sede del Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise il Comandante della Legione Generale di Brigata Michele Sirimarco insieme al Comandante del Centro Nazionale Amministrativo di Chieti Generale Claudio Quarta ha festeggiato le promozioni del Colonnello Marco Bianchi Comandante Provinciale di Campobasso da settembre 2015 e del Colonnello Umberto Tamborino Capo Ufficio Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso presso a servizio nel capoluogo molisano dal 2005 prima come comandante del reparto operativo e attualmente appunto come Capo Ufficio Comando Appuntamento lunedì 5 marzo a partire dalle 17.30 nella chiesa San Martino e Nicola di Venaforo con un incontro dedicato alla musica sacra interverrà tra gli altri Monsignor Marco Frisina direttore del Coro della Diocesi di Roma e maestro direttore della Pontificia Cappella Musicale Lateranense il servizio di Michele D'Alessio Siamo nella chiesa San Martino e Nicola di Venaforo e l'ingegnere Marciano Oliva direttore della scuola Cantorum Lino Cappello lunedì grande appuntamento musicale in questa chiesa maestro che cosa succederà? Sarà un evento forse unico perché ci sarà una riunione diciamo un'assemblea di tutte le corali della Diocesi e anche delle corali provenienti da altre Diocesi e anche da altre regioni per condividere un momento di riflessione o anche un momento di gioia nel canto liturgico nella musica sacra ecco appunto l'appuntamento nasce da una idea un'esigenza di poter riflettere sul tema della musica sacra dopo 50 anni dalla sua istituzione quest'anno diciamo l'anno scorso è stato il cinquantesimo adesso stiamo al cinquantunesimo musica sacra è un documento ufficiale della chiesa con cui si riprende la Sacro Sandomu Concilium e con cui i padri conciliari volevano appunto cercare di dare una guida una direttiva sui contenuti sui testi anche sulla musicalità dei canti adottati durante la celebrazione eucaristica liturgica lo stesso Benedetto XVI definiva l'organo come lo strumento per eccellenza del resto perché attraverso i suoi suoni era possibile ripercorrere tutte le emozioni dello stato umano dell'animo umano dalla gioia al dolore alla meditazione anche alla preghiera e Papa Francesco ha ripreso questo concetto proprio meditando in uno degli appuntamenti principali tenuti l'anno scorso ci sarà anche una funzione religiosa ufficiata da due vescovi sì forse anche questo è un evento perché avere due vescovi che concelebrano c'è il presidente che celebrerà che presiderà diciamo la celebrazione ovviamente Monsignor Camillo Cibotti vescovo della nostra diocesi sarà presente poi anche Monsignor Palumbo che ha voluto essere partecipe anche lui a questo importante evento sia nella celebrazione eucaristica ma anche nell'incontro di riflessione che si terrà subito dopo al termine e da sottolineare la presenza di Monsignor Marco Frisina Marco Frisina diciamo per chi ancora non lo conoscesse ma credo che lo conoscano tutti è il direttore del coro diocesi di Roma è un compositore direttore di orchestra ha composto e continua a comporre anche parti canti liturgici polifonici per la celebrazione e sarà lui anche diciamo a partecipare a dirigere le corali presenti bene con questo servizio ci fermiamo è tutto per questa edizione adesso le previsioni del tempo poi il telegiornale sportivo grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti